Oggi andiamo a vedere i comandi per la gestione dei pacchetti e come questi comandi cambiano tra una distribuzione ed un'altra. Ti consiglio di guardare questo video fino alla fine, così hai chiare idee su cosa cambia veramente tra una distribuzione ed un'altra e sul perché è utile conoscere i comandi di gestione dei pacchetti piuttosto che installare i pacchetti da un'applicazione grafica. Prima di continuare ti ricordo che io faccio video dove parlo di Linux, di programmazione e di retrocomputing. Se questi argomenti ti interessano iscriviti al mio canale, attiva la campanella, commenta e metti un like a questo video. Nel primissimo video che ho pubblicato su questo canale ho classificato le distribuzioni Linux in tre famiglie principali, la famiglia Debian, la famiglia Red Hat e la famiglia Arch. Quello che non ho menzionato in quel video è che ogni famiglia di distribuzioni Linux ha il proprio formato di pacchetti incompatibile tra una famiglia e l'altra e di propri tool specifici per gestire tali pacchetti differenti tra una famiglia e l'altra. Di conseguenza questo è l'unico video di questa serie che contiene comandi specifici per una data di distribuzione. Dal prossimo video in poi torneremo a trattare comandi che funzionano indipendentemente dalla distribuzione che utilizzi. Andiamo quindi a vedere i comandi per la gestione dei pacchetti per tutte e tre le famiglie di distribuzioni a partire dalla famiglia Debian. Ubuntu è sicuramente la distribuzione più famosa basata su Debian e quindi con la nostra bella Ubuntu Mate che abbiamo usato finora siamo a cavallo. Il formato dei pacchetti delle distribuzioni basate su Debian è DEB e interagisce con questi pacchetti attraverso due comandi apt e dpkg. Per cercare un pacchetto il comando è apt-search seguito da parte del nome del pacchetto o della descrizione. Per esempio, se voglio cercare il pacchetto htop o pacchetti che contengono la parola htop nella loro descrizione basta scrivere apt-search-htop Oppure, visto che so che htop è un visualizzatore di processi in inglese Process Viewer allora posso anche scrivere apt-search-process-viewer e visto che Process Viewer contiene uno spazio lo metto tra singoli o doppi apici. Se vuoi maggiori informazioni su un pacchetto il comando è apt-show seguito dal nome del pacchetto in questo caso htop Andiamo ad installare questo pacchetto con il comando sudo apt-install seguito dal nome del pacchetto da installare per questo esempio sempre htop Il comando questa volta è preceduto da sudo perché l'installazione dei pacchetti visto che è un'operazione che va a toccare file dai rektori di sistema necessita dei privilegi di root Se vuoi maggiori informazioni su come funziona la multiutenza su linux e come e quando usare sudo trovi tutto in un mio precedente video chiamato linux utenti gruppi e permessi Piccola parentesi Il comando htop è molto utile per vedere cosa sta succedendo all'interno del sistema Come puoi vedere nella parte alta dello schermo ho la percentuale di utilizzo del processore, memoria e swap Mentre nella parte bassa dello schermo ho la lista dei processi di default ordinate per utilizzo di CPU Volendo puoi anche terminare l'esecuzione dei processi direttamente da qui ma questo esula dallo scopo di questo video Htop è un'alternativa molto comoda ai comandi tradizionali top, ps e kill ma come puoi vedere purtroppo non tutte le distribuzioni lo installano di default Ma torniamo alla nostra gestione dei pacchetti Ah, una cosa che non ho ancora menzionato in questi video ma che avrei dovuto dire sin dall'inizio è che Linux è un sistema operativo case sensitive cioè tratta le lettere maiuscole e minuscole come caratteri differenti quindi è importante l'uso corretto di maiuscole e minuscole per comandi, opzioni e nomi di file Detto questo se voglio vedere con esattezza quali file contiene un pacchetto già installato do il comando dpkg-l maiuscola seguito dal nome del pacchetto quindi nel nostro esempio htop oppure posso anche fare l'operazione inversa cioè voglio sapere a quale pacchetto corrisponde un determinato file per fare ciò il comando è dpkg-s maiuscola seguita dal percorso completo del file per esempio slash bin slash ls e vedi che il comando ls appartiene al pacchetto corutils vediamo ora come fare per disinstallare un pacchetto basta dare il comando sudo apt remove seguito dal nome del pacchetto da disinstallare in questo caso sempre htop giusto per completezza ti dico anche i comandi per aggiornare i pacchetti installati all'ultima versione disponibile nelle distribuzioni della famiglia debian questo è un processo diviso in due fasi la prima fase col comando sudo apt update aggiorna la cache locale dei pacchetti la seconda parte col comando sudo apt upgrade fa l'aggiornamento vero e proprio dei pacchetti installati aggiornandoli alla versione che trovi nella cache locale visto che vedo molti in giro a farlo ti dico anche che vedrai spesso scrivere che il comando per aggiornare sistemi basati su debian è sudo apt update doppia e commerciale che si legge end sudo apt upgrade quella doppia e commerciale significa semplicemente esegui il comando successivo solo se il comando precedente è andato a buon fine quindi di fatto significa fai un sudo apt update e se questo è andato a buon fine fai un sudo apt upgrade passiamo ora alle distribuzioni della famiglia redette prendendo come esempio la distribuzione fedora il formato dei pacchetti per le distribuzioni basate su redette è rpm ed i comandi per gestire tali pacchetti sono dnf e rpm iniziamo sempre col comando per cercare un pacchetto prendiamo sempre come esempio htop quindi diamo il comando dnf search htop nota che questa operazione è più lenta rispetto ad apt perché dnf aggiorna automaticamente la cache ogni volta che lo invochi come visto poc'anzi con apt possiamo cercare la descrizione process viewer sempre mettendo le parole process viewer tra singoli o doppi apici se vuoi maggiori informazioni su un pacchetto il comando è dnf info seguito dal nome del pacchetto in questo caso sempre htop installiamo htop col comando sudo dnf install htop se voglio vedere quali file contiene un pacchetto già installato il comando da dare è rpm-ql seguito dal nome del pacchetto per questo esempio è sempre htop se invece voglio sapere a quale pacchetto appartiene un determinato file il comando da dare è rpm-qf seguito dal percorso completo del file per esempio slash bin slash ls e vedi che mi ritorna che il comando ls appartiene al pacchetto corutils per disinstallare un pacchetto il comando da dare è sudo dnf remove seguito dal nome del pacchetto in questo caso sempre htop per aggiornare tutti i pacchetti installati il comando è sudo dnf upgrade a differenza di apt come abbiamo già visto dnf aggiorna la cache automaticamente quindi basta dare un solo comando per effettuare un aggiornamento completo e veniamo ora alle distribuzioni della famiglia arch in questo caso uso endeavor os perché chi cavoli ha voglia di sbattersi a installare un arch vera e propria in più endeavor os ha già l'aur belle che configurato come vedremo tra poco il formato dei pacchetti su arch è pkg e interagisci con questi pacchetti utilizzando il comando pacman iniziamo sempre cercando il nostro pacchetto htop quindi diamo il comando pacman-s maiuscola s minuscola seguito da cosa voglio cercare in questo caso htop anche qui possiamo utilizzare sempre lo stesso comando cercando process viewer sempre tra singoli o doppi apici per avere maggiori informazioni su un pacchetto utilizzo il comando pacman-s maiuscola i seguito dal nome del pacchetto per esempio htop installiamo htop col comando sudo pacman-s maiuscola seguito dal nome del pacchetto da installare in questo caso htop per vedere quali file contiene un pacchetto già installato il comando è pacman-q maiuscola l seguito dal nome del pacchetto per esempio htop operazione inversa per vedere a quale pacchetto appartiene un file il comando è pacman-q maiuscola o seguito dal percorso completo del file per esempio slash bin slash ls e vedi che il comando ls appartiene al pacchetto corutils per rimuovere un pacchetto il comando è sudo pacman-r maiuscola s seguito dal nome del pacchetto per esempio htop per aggiornare tutti i pacchetti il comando è sudo pacman-s maiuscola yu comando che forse avrei già visto considerando il suo status di meme nella community linux voglio però soffermarmi ancora sulle distribuzioni della famiglia arch perché arch ha una caratteristica che già da sola potrebbe far valere la pena di utilizzare una distribuzione di questa famiglia cioè laur acronimo di arch user repository laur è un mega repository gigantesco che contiene la stragrande maggioranza dei progetti esistenti al mondo sia open source che non che normalmente non trovi pacchettizzati per nessun'altra distribuzione le due cose che devi sapere su laur però sono che prima di tutto laur è separato rispetto al repository di arch quindi non puoi utilizzare direttamente il comando pacman per gestire i pacchetti dell'aur e la seconda cosa da sapere è che per i pacchetti open source ti compili pacchetti da sorgente anziché scaricarti i binari precompilati quindi l'installazione di un pacchetto aur ci mette più tempo rispetto ad un pacchetto dei repository arch comunque non ti preoccupare troppo del fatto che devi compilare i pacchetti tanto è tutto automatizzato ma se non posso usare pacman per gestire i pacchetti aur come faccio? la soluzione sta nel di utilizzare un cosiddetto aur helper e su Endeavor OS è già installato l'aur helper chiamato EA scusa non ho resistito comunque il bello di EA è che si comporta esattamente come pacman quindi basta sostituire EA a pacman per i comandi che abbiamo visto finora per esempio se voglio cercare il mio file manager arenar nell'aur do il comando EA meno S maiuscola S minuscola arenar e vedi che il mio file manager è pacchettizzato col nome di arenar trottino fm perché esiste già un altro pacchetto chiamato arenar per mostrarti che non c'è niente di spaventoso nel fatto che i pacchetti aur vengono compilati da torgente andiamo a installare un altro mio progetto ArchiveFS posso anche non mettere sudo prima di installare un pacchetto con EA tanto EA utilizza già internamente sudo all'occorrenza prima di installare un pacchetto dall'aur mi fa qualche domanda alle quali posso tranquillamente premere invio per accettare le opzioni di default aspetto il tempo di scaricare e compilare ma per non annoiarti velocizzo questa parte del video ed il gioco è fatto ecco che ArchiveFS installato è pronto per essere utilizzato se tutto quanto detto in questo video ti sembra inutilmente complicato beh in parte lo è ma ti dico un enorme vantaggio di conoscere i comandi per la gestione dei pacchetti per esempio in questi giorni è uscita una nuova versione di Fedora e per pulizia preferisco sempre installare il sistema da zero dopodiché secondo te io sto a perdere un pomeriggio intero ad utilizzare un'applicazione grafica e spendere click su click per installare a mano ogni singolo pacchetto di cui ho bisogno visto che ho di meglio da fare nella vita mi sono scritto un semplice file di testo che al suo interno contiene i vari comandi dnf install con ogni pacchetto che voglio installare ed eseguo quello script con sudo ogni volta che reinstallo Fedora e fa tutto lui da solo senza bisogno che io stia ore davanti al computer a fare operazioni noiose e ripetitive prima di concludere volevo dirti che nel wiki di Arch Linux trovi una bellissima pagina chiamata Pacman Rosetta che contiene una tabella che mostra in maniera semplice e concisa i vari comandi che abbiamo visto in questo video e anche di più tienilo a portata di mano ogni volta che hai a che fare con dei pacchetti indipendentemente dalla distribuzione che usi grazie dell'attenzione ti ricordo che trovi i miei video sia su YouTube che su Odyssey trovi tutti i link in descrizione al prossimo video ciao e vedi che il comando ls appartiene al compa non è un cazzo vero non è un cazzo vero